Cos'è una mamma? Una mamma è la unica persona che per nove mesi ti tiene in grembo. Tre anni tra le braccia e tutta la vita nel cuore. La mancanza di una madre è la senza più grande a qualsiasi età. Sai, la mamma è il battito del cuore della casa. Senza di lei non sembra esserci vita. La mamma è la cosa più bella che c'è. Con lei litighi, ridi e scherzi. Con lei passi i momenti più belli e più brutti. Con lei piangi, sogni, credi. E sai che lei è sempre al tuo fianco. Che è l'unica persona che nonostante tutto non ti lascia mai. Sai, la mamma è quell'amore che, pure quando muore, ti rimane dentro al cuore. Nel libro della mia vita, i miei fili sono la pagina più bella. La famiglia non deve essere perfetta, deve essere unita, qualunque cosa accada. Sai, una mamma può sostituire tutti, ma nessuno può sostituire una mamma. E arriva un giorno in cui ti senti parlare come lei. Cucinare, scuidare, insegnare come lei. E capisci le preoccupazioni, le paure. E ringrazio, che era lì, ad accompagnarti da vicino. I suoi sacrifici e il suo tempo. Arriva un giorno in cui ti guardi allo specchio e rivedi lei. Perché qualche mese sei stata dentro di lei. Ma lei sarà sempre dentro di te. Che cosa è una mamma? Questa foto ti dice tutto. Secondo me, le mamme non dovrebbero mai morire. Dovrebbero sparire. E poi apparire quando hai bisogno di rivederne. Anche solo per un attimo. Grazie mille per restare con JustFanewal. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie. Restate bene. Se ti piace JustFanewal iscriviti al canale. Metti un like. Grazie.